A me la cosa che proprio piacerebbe tanto più di parlarle per darle un consiglio è farle vedere, farle vedere che cosa c'è adesso. Io penso sempre che se io tre anni fa avessi potuto vedere tutto quello che ho adesso, io direi cavolo allora funziona. Quello che io penso e cioè che se ci spero così tanto mi arriverà e se mi sforzo così tanto mi arriverà funziona perché allora era soltanto un'idea. Cioè io ho questo ideale qui, per me arriva, sono sicura di questo però in realtà non è che avessi tante certezze. Invece farle vedere che effettivamente funziona sarebbe proprio troppo bello.